Lavorando per uno studio di fotografia di e-commerce, mi ritrovo spesso, dopo lo scato, a dover ritoccare circa 250 immagini al giorno di modelle su sfondo bianco, che richiede quindi una selezione e uno scontorno per rimpiazzare il bianco e ottenere quindi un bianco pulito per il web molto veloce. Per fare ciò ho creato un'azione che potete trovare nel link in descrizione qui sotto, ma voglio mostrarvi passo passo come procedo per lo scontorno. Partendo da queste immagini, per rimuovere il bianco che è presente sullo sfondo e che non è completamente bianco dato che è impossibile ottenerlo in fase di scatto, consiglio di utilizzare la bacchetta magica di chiamabile tramite il tasto W. In questo caso, dato che l'abito non è comunque un colore che si avvicina al colore del fondo, possiamo utilizzare un valore di tolleranza molto alto, ad esempio un valore che va dai 30 ai 35, mentre se sono presenti degli abiti bianchi dobbiamo scendere come valore, e quindi fare una selezione un po' più accurata. In questo caso vado quindi a cliccare sul bianco e come vedete ottengo già una selezione di tutto ciò che voglio andare a rimuovere, compreso lo spazio qui all'interno del braccio. Come vedete qui sotto sono andato a selezionare anche l'ombra che in questo caso voglio mantenere. Quindi cosa faccio? Tramite lo strumento Lazo, richiamabile tramite la lettera L, vado a sottrarre alla selezione, in maniera molto grossolana e veloce, l'ombra che voglio mantenere appunto dopo aver scontornato l'immagine e rimpiazzato il bianco. Fatto ciò vi farò vedere dopo l'azione che ho creato che è molto veloce. Cosa devo fare? Devo fare un'inversione dell'immagine, dato che mi serve mantenere la modella, quindi Command o Control Shift più I, faccio un selezione in maschera oppure posso farlo manualmente tramite lo strumento selezione, vado a impostare un valore di raggio di un pixel, un valore liscio di 5, una sfumatura di 0,3, un contrasto di 5 e uno sposto a bordo del meno 8%. Seleziono qui di creare un nuovo livello ed ottengo così la modella scontornata. Adesso devo creare un nuovo livello di bianco al di sotto della modella che posso creare sia col tinta unita, con un nuovo livello riempito, ma io preferisco impostare tramite il modifica scelte rapide da tastiera. Se andiamo in livello possiamo vedere l'impostazione. Eccola qui, unico livello, assegnato il comando maiuscolo CTRL F. Questo cosa va a fare? Va a prendere tutti i livelli esistenti e a rendere un livello unico bloccato, quindi va a rimpiazzare automaticamente il bianco così da rendere l'operazione ancora più veloce. Adesso però ho bisogno di fare un check del bianco che ho selezionato perché molto spesso la bacchetta magica, se ad esempio trova della polvere sul fondale, non va sempre ad incorporare quello all'interno della selezione. Quindi cosa faccio? Creo un nuovo livello di valori tonali, prendo la zona delle ombre e la porto tutta verso la zona delle luci, così da metterci in mostra tutte le parti che ad esempio dobbiamo rimuovere. Vado a selezionare lo strumento penno oppure potete utilizzare lo strumento scherma che però sconsiglio, dato che molte volte bisogna ripassare più volte sopra. Vado quindi a rimuovere le parti che non mi servono nell'immagine perché ricordiamoci dobbiamo ottenere un bianco pulito e soprattutto non devono esserci sporcizio o quant'altro. Vado a fare un rapido check dei capelli se mi piace lo scontorno e la selezione che ha fatto altrimenti vado a correggere la selezione. In genere l'ombra dei piedi viene lasciata così dato che questa è realizzata su plexiglass ma possiamo anche andare a smussarla magari utilizzando sempre il pennello bianco con un'oposità molto bassa e andiamo a creare un'ombra del genere. Fatto ciò abbiamo finito lo scontorno possiamo poi procedere con la pulizia delle pieghe questo poi dipende sempre dall'esigenza del cliente ma vedremo questo come farlo in un prossimo video sia con un metodo un po' più rapido che con un metodo un po' più preciso che richiede però più tempo. Vediamo adesso tramite l'azione la selezione su una maglietta bianca. Innanzitutto quello che dovete tenere a mente è di tenere sempre la modella sul centro ma è di taglio, magari lo andiamo ad aggiustare alla fine. Andiamo a selezionare lo strumento bianca con un valore ad esempio di 10 e vediamo se va a selezionare parti della maglia in questo caso no. Perfetto, sono riuscito a fare la selezione con un valore più basso e vado ad includere tramite lo strumento lazzo tutte le parti che ad esempio non ha selezionato senza prestare molta cura a tutti i puntini piccoli dato che dopo abbiamo Lay Help che ci aiuta vado a riprendermi un po' d'ombra che dopo andremo a smussare quindi senza essere molto precisi. Quindi una volta fatta la selezione vado semplicemente a lanciare l'azione e come vedete ci ritroviamo e saltiamo soprattutto tutti quei passaggi e siamo pronti per rimuovere già tutte le imperfezioni che sono state selezionate ovvero granelli di polvere e qualsiasi altra cosa presente sul fondale. Una volta fatta la selezione vado a ricrearmi di nuovo l'ombra in maniera perfetta e poi posso ritagliare l'immagine e spostarla al centro. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace noi ci vediamo in un prossimo tutorial non dimenticate di scaricare l'azione qui sotto dei commenti e di iscrivervi al canale. Un saluto da Marco e di iscrivervi al canale.